Bentornati ragazzi, una puntata strana di Legend of Grimrock Come noterete l'audio è differente e questo è perché sto commentando il mio gameplay dopo averlo fatto Questo perché qualche giorno fa, ieri, tra virgolette, ieri l'altro ieri Stavo rischiando di diffondere la CPU a 100 gradi perché era piena di polvere e devo cambiare la pasta Quindi ho dovuto staccare tutto, aprire, pulire e quant'altro Fatto sta che mi si è imputtanato tutte le impostazioni audio e quant'altro E quindi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto fare un cazzo E quindi guardate che cazzo di casino, non mi ha registrato l'audio di almeno due puntate E con un buon occhio e una buona mira entrerai, dice la cosa Fatto sta che non ho avuto un buon occhio, ma è perché era notte Ho provato a lanciare il dardo ma si è fermato lì, quindi niente Comunque niente, l'audio non è stato registrato A me buttare via due o tre puntate mi sta al cazzo Preferisco provare questa cosa qua e vedere se diventa una cosa decente Se non sarà una cosa decente, ho pace e amen Mi dispiace, sono un cazzone, devo controllare, ma è andata così Quindi adesso qua mi butto alla ricerca di un modo per entrare dietro questa stupita cosa qua Guardate l'uomo che non sa cosa sta facendo, come si guarda intorno Decido che non c'è modo di entrare per il momento Che è notte Mettiamo giù una bella nota Buon occhio, eh sì, è buona mira Intanto mi accendo alla pipa ragazzi E allora si va per l'altra strada Poi vedete ci sono questi sandwich Queste sono salsicce volanti orribili Venuti fuori dagli incubi di bambini Che non è che creino poi un gran problema Lì c'è un'iguana E una testa rotta E ora non so perché evito di andare di là e decido di andare giù di qua Io mi trovo davanti e voi qua purtroppo ancora Ah, eccoli, quella lì è anche interessante Dovremmo prendere sicuramente in un prossimo futuro Qui c'è questa bellissima trappola E faceva un casino della Madonna Tipo che ti massacrerà il cervello E lì pensavo addirittura di soltare di prendere la mano Non ci arrivi Quindi la leggenda dice Lascerai in del dolore Qui analizzo un attimo la situazione E poi Vedo il da farsi Guardo dietro di me Guardo avanti Allora Mi decido Dopo aver studiato e essere morto una volta È arrivato il momento di tentare la fortuna Si parte Ci si lancia Mi ricordo che Dovuto andare indietro Ok, si può andare Qua in fondo C'è un bottone sulla porta Lo premo Mi cespico Sta arrivando la lama che mi ucciderà E ce la faccio Cosa nasconde Questo bellissimo scrigno Una bellissima zampa d'orso Tipo Dei guanti Li darò al guerriero Che danno più 4 strength Che è l'unico che va di strength Non è un guerriero Un barbaro il mio Picchia con un fabbro Le basta Tutto tutti C'è scritto che è stata craftata da uno sciamano Si trasformava in orso Quindi Facciamo questo swap Questo upgrade Molto ricercato Vediamo i guanti Al povero farto Che ne avrà bisogno Deve proteggersi le manine E quindi bisogna trovare il modo Per arrivare Oh è là Oh è là Bisogna trovare il modo Per aprire la porta lì a sinistra Quindi cosa faccio Salvo il gioco Perché sono un cagone E mi lancio Non trovo niente Nulla Sparo Non serve un cazzo Decido che è meglio Ritornare a casa Prima che Un pelo Ok Si arriva Si arriva Si arriva Si va giù di qui La leva La leva sembra forse Qui cammino in mezzo Le lame Senza prendere danni E magicamente Si arriva da questo lato Così Boom Cosa abbiamo qua Abbiamo una lettera La solita lettera Della stronzo Se la lascia in giro Per l'isola Questa è un attimo In confusione Per Ma la leggiamo Allora Oh mi dispiace tanto Spero che questa mia Piccola trappola Ti abbia rotto Solo qualche ossa E puoi continuare A procedere Nel tuo viaggio Molto gentile Da parte sua Come sempre Sembra che aveva bisogno Di compagnia Che sia caduto Da bambino E gli sia mancato L'affetto Alla mamma Probabilmente Sono i problemi Di base E poi Spawn Sta berrazione Qua Che è tipo Il boss iniziale Che abbiamo affrontato E Non è che c'è tanto da fare Conviene tankarselo La fin fine L'ho scoperto dopo Fortuna che ho un mago Cristo Come vedete Sono coriacei Ganfo non fa danni Però Mi serve per le pozioni Mi serve una parola grossa Spero che a un certo punto Faccia altri tipi di pozioni Guarda quanto cazzo Resiste a qualcosa qua Almeno l'esperienza Vale la pena Mi guardo intorno Raccolgo il mio bel funghetto Portemocelo a casa E cosa c'è qua Un bel pulsantino Che se Premuto Ci apre una porta Dietro la trappola In modo da Che non c'è bisogno Da fare tutto il passaggio Ancora E qui c'è quest'altro posto Ma io decido di no Prima Non lo so Sono confuso totale Ok Ah eccolo là Eccolo là Bastardo Scomparso Però si è ravvicinato All'albero Quindi Incuriosito Questa qua è tutta un'altra zona Incuriosito A quello che sta succedendo Mi guardo intorno E decido di andare a vedere Due lettere Prima questa è una mappa Mappa dell'isola E vado subito a sbirciare Perché sono una bettonega Qui mi do delle locazioni Che al momento Io fatico a capire Ma poi mi verrà Il lampo di disegno Tipo c'è le rovine Di Desarune La piramide di Umas Il cimitero E io non so bene Dove cazzo sono Provo a cliccare Per vedere se Mi dà altre informazioni Ma Cliccando Si chiude solo Quindi Mi guardo intorno Distrutto Quella dico Non sembra una torre Potrebbe essere la torre Infatti No Verete Ce l'ho arrivato Non sono così disabile E poi prendo Quest'altra lettra Che dice Caro visitatore Trorei Allegato una mappa Dell'isola Spero ti sarà utile Vorrei farti vedere Alcuni posti chiave Che ti facciano Accomodare Nella tua nuova casa Anche se ho paura Che l'isola Sarà tua casa Per poco I miei animaletti Sono affamati Come sempre Se guardi a nord Troverai la grande Piramide di Umas Sopra i treetops Che non so cosa siano Forse gli alberi E ad ovest Puoi trovare le rovine Di Desarume Un grosso dungeon Che ho riproposto Per te Oltre a Desarume C'è ancora un posto Più antico Ma non hai bisogno Di sapere niente Di ciò Perché le Sfide che ci sono lì Sono fuori Della tua portata E infine Ma non per ultimo Adesso Troverai I Campi di sepoltura Dove alcuni personaggi Interessanti Sono stati sepolti E tu a decidere Quale di queste locazioni Sarà la tua fine Il maestro dell'isola Un cliente molto gentile Questo Mastro dell'isola Che sarebbe da prendere A pugni in faccia Dall'inizio alla fine E questo è quanto Era un po' stronzo In quel momento lì Quindi ho detto Io ho Questa mappa qui Io ho il compasso Vedete Che mi segna il nord Quindi ho fatto 2 più 2 E ho detto Se quello è il nord Quindi effettivamente Quella là in fondo È la piramide E questa qui davanti a me È effettivamente Statura che vedo La piramide al momento Non la vedo Ma Tant'è Io sono qui Questo è l'albero Dove ti sono mollato Il colo E di là c'è Tutte le varie rovine Cemitero e quant'altro Anche se con tutto questo È tutto molto bello Mi pare che la decisione Che ho preso in questo momento qua Qualche ora fa Fu quella di esplorare Perché Vabbè Ho deciso di muovere il culo Andare avanti Forse un pochino E girarmi Qua c'è un posto Per poter scendere Mi tuffo Cancello Avanti indietro Avanti indietro No 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 Fuori delle palle Sì a volte Con questi lampi di genio Dove mi sposto Si spenta la torcia Ho realizzato Che tuffarti in acqua Con la torcia La fa spegnere Ma basta R'equipaggiarla E se posso Intanto la tolgo Perché dico Tanto ci vedo bene Uguale Almeno non la consumiamo Che in effetti Sono rimasto un po' corto C'è questo lungo Corridoio Niente che si può raccogliere Non mi convince Insomma Non ci convince Questa cosa Qui adesso C'è una cosa molto secolare Tipo questo fucile Quando l'ho toccato È successo questa cosa qua Io ho urlato E probabilmente Ho anche bestemmiato Tanto sta che Mi sono girato E ero circondato Da ogni lato Da queste mumie Ecco Eccoci qua Sono riuscito Infilarmi in quell'angolo La trovi piuttosto tanco Piuttosto che stare in mezzo Tutti E in effetti Devo dire che ha funzionato È un combattimento Bello lungo Questo qua Dove Stavo sclerando Per uscire Guarda Continua ad arrivare roba Mi pare che poi Il farto Va finito Ganfa Ha finito le munizioni La maga Ha finito il mana Io continuavo Come un disabile A colpire A tutto Spiano A queste mumie Che continuano Ad uscire Stavo Mettendo da parte Il mana Per qualcos'altro Rimane una mumia Ho detto Andiamo Colpiamo duro Guardate Come Attaccano Perterrite Però c'è nello croni Invece E lì Cristo Mori Mi sono pozzato Mi sono pozzato Con farto Non volevo farlo morire Di nuovo E qui sotto Non c'è Un beniamato cazzo Adesso io controllerò Tra l'altro Il fucile Continua Mi voglio provare Le firearms Anche se tutti dicono Che fanno veramente Schifo Ma veramente schifo E l'unico motivo Per cui non le ho provate Perché secondo me Erano veramente Un concept Molto bello Poter Poter provare Niente alla fine Non mi sono fidato Mi porto in giro Il fucile Boh Perché È una reliquia Però Sta un po' in mezzo Al cazzo Il fucile qua Pesa Spara Spara A tre quadretti Di distanza Quindi è figo Pure quello E che È arrivato il momento Che Meno preferisco Che è quello Della Gestione un attimo Dell'inventario Forse Posso scaricarlo Addosso a qualcuno Che non rompa le palle Poi mi toccherà Farlo pure meglio Magari c'è anche Da livellare In pigina Ecco mangiamo Anche Che va bene Così Un'occhiata Torcia Un'occhiata Attorno Rivelerà Che non c'è Un benemato Cazzo Almeno io Non ho visto niente Se puoi adesso Arrivedere il video Ho fatto fuori qualcosa È tutta altra roba Nisba 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 Era solo una bella trappola Per chi toccava Quel cazzo Di Fucile E si spona Dante il fucile Simpatico Quello dell'isola È andata così È andata Voglio rivellare il pg Sì Niente stat per ora Ma Posso mettere i punti Quelli che penso Se metterlo in truing O poi decide Di andare per il quinto E alchemy Chiuderla E gg A me Fine Poi qua Con lui Anche Decido se andare in armor O in Weapon O in Chiurarsi addirittura Promi per aver messo I nivi Weapon Promi tra i danni More damage Un level up Abbastanza easy peasy Dopo aver salvato No balls Andiamo avanti Da questo lato qua Cosa che dice La scritta Mente e corpo Ecco qui La paura di essere Di chiuso fuori Una volta dentro Rimane forever Questi erbusti Che ormai Gli incubi Che escono Gli alberelli Da lì dentro E poi ovviamente La paranoia Che ci sia qualcosa A toccare sul muro Mentre abbiamo già visto Anche questo Cosa qua Quando c'era la pittra Filosofale Qui devi Devi muovere i sassi Ma come muoverli Qui cosa ho tratto Un cappello Mi pare È stato abbastanza veloce A capire chi darlo Questo qua Ha la squinzia La maga Mi pare Qui ce l'ha già Lei c'aveva il berretto Quello del Beduino Quindi E questo qua Lo molliamo lì Che non torno mai è andata Andata come andata E non si passa Quindi Altre paranoie Per i I cosi sulla parete Invisibili E qui Il mio cervello Inizia a lavorare Un piano Malefico Per riuscire A mettere Le pittre Dove devono andare E qui abbiamo Un bel amichetto No? Da vedere Che sentivo I suoi passi Questo golem Qui Che in verità A qualermi Che avevo a disposizione Non era Non è stata Una grande idea Andare A pestarlo Ho provato A inserire la power Perché sono disabile Non ho capito Ancora l'antifona Sono colloide E Clicco E succede qualcosa Là dietro Sono lì per lì Dal capire Quindi vado Qui più o meno Clicco E si aprono Una bella porta E qui E qui ho capito Qui ho capito Come Come risolvere La questione Mi ha trovato I lockpicks Che servivano tanto Anzi Forse non ho ancora Esattamente capito Ma più o meno Diciamo che Ma ci sto impegnando Per arrivare Ho ben tratto Un quantitativo Di cibo Che a un certo punto Sono così pieno Di salami E bistecche Che mi sa Li posso usare Da buttare in giro Scatola comunque Lascio lì Perché pesa E qui è fatto ragazzi Io Guardo questo Guardo quello Io ho capito Non l'ho ancora capito Non l'ho ancora capito Mi cervello Che sto ancora Lavorando Tic All'altro Guardatelo Prende le misure Da bravo Se io faccio così Ah no Ah faccio così Tic Tac Ti sento quanto Cazzo Ci ho messo Vabbè Se non le sai Le cose Non le sai Ok Convinto Lì ho avuto Un attimo di Tentennamento Poi ho detto Che qui Non posso passare Non si può girare dietro Quindi ovviamente Devo fare il giro Di là Però di là Passare di lì Devo sparare Quindi mi tolgo Quel cosa lì colpisce dietro Qua si apre E finalmente Posso Deciso poi Se lo spingo fino in fondo Oppure lo metto lì di fianco Qui si apre No Quello lì lo ributtiamo là Invece da prendere misura Ho detto Ma si Buttiamolo di fianco Fuori i coglioni Buono Uno è andato Quest'altro qua Molto semplice Buono Eccoci qui Fatto anche il secondo Ci accorgiamo Che si è aperta la porta Guarda di lasciare il golem Prevedibile Ed ecco il golem E come vedete Sono un cazzone Perché Tutti gli attacchi Che gli faccio Anche quelli più potenti Sono un danno Vabbè Proviamo con la magia 12 danni Non mi sembrava Fattibile la cosa Al momento Adesso Ci penso qualcosa Fin fine sono uscito Facciamo andare un po' Il cervello Vediamo cosa Riusciamo a tirarne fuori Da qua In breve ragazzi Capisco che non c'è Molto da fare Perché non ho magia Che Io sono andato Full fuoco Con lei Concentrazione Quindi le magie Sono quelle Quindi L'unica roba che farò Sarà andare hardcore Con la magia del fuoco Capendo che Se fiancheggio Quello Dai pugni Su se stesso E quindi Non è una buona idea Ma comunque Sbaglierò un paio di volte Perché sono disabile E su questo qua Non ci si può fare niente Tra l'altro Eccolo lì Un bel pugno Farto Che si è preso 29 danni E si è rotto la mano Ancora che È diventato il giorno Vado in giro Con quella cazzo di torsa Che Sto punto Putendo Tanto valeva Qui provo a caricare Un colpo Con No Ok Realmente Il mostro è morto E Ha lasciato solo Dei cazzo di sassi Vado un attimo A dare un'occhiata Se c'è qualcos'altro Del genere Vabbè Ecco i sassi Ce li pigliamo su Con Ganfu Che lui ha La fionda Gli fanno comodo Insomma Menti caso Servi a tirare Da dietro i muri Da qualche parte Qualcosa E Così abbiamo risolto Anche il problema Del golemino Che secondo me Adentrà un nemico Un po' più comune Nel prossimo futuro E mi romperà le palle Perché non ho niente Per fargli veramente danno Ma si va avanti Per la strada E per la strada Troviamo un altro golem E io decido In questo momento Di levarsi al cazzo Col senno di poi Pianto giù un No Cazzo faccio Qua Ah ok Ho deciso di venire qui E mettermelo davanti Punto esclamativo Serve Incantesimo Contro Il golem Eh si Però in verità Serve veramente Quell'incantesimo Del cazzo Non è chiuso la porta Proprio così Me ne vado così Rinunziamo E ho preso Una leggera Battosta Qui così Per ritornare indietro Mi dico E andiamo a esplorare Dall'altra parte In effetti Non è malaccio Passiamo per la nostra Mitica trappola disattivata E ho detto Guardi qui però Adesso a me viene Viene voglia Di andare a vederla Dietro perché Siccome è fattibile Prenderla Quella là E quando arrivo qua Ce l'ho sbarrato Cazzo da premere Cerco ma Niente 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 E allora Un culet Porta chiusa Perché ovviamente Quando non si sa Che cazzo fare Si mette lì Un bel marker Chiuso E come cazzo Ho fatto a raggiungere Quella Quella sfera lucente Mi sono tuffato Probabilmente Ah eccoli sotto Ho visto Tartaruga Ma che cazzo Prendi un fiato E via Non si può attaccare Se l'attacco Quindi ho deciso A sciostare La tartaruga Del cazzo E di mettermi A cercare Qualcos'altro Ho trovato Sta Botola qui Che portava Da un'altra mappa Qua l'ho rischiata Veramente grossa Mi stavano crepando I pg Sono riuscito A uscire Appena in tempo Buon dai Fattibile Eh si Ho Grande rivelazione Ho capito Che sono Collegate le due zone Anche da sott'acqua Si può passare E' il momento Di spingersi Più in là Tic 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 Speravo di vedere Una scala Infatti c'è E finalmente Ci becchiamo Il quarto pezzo La quarta gemma Eccoci qua Buono Sistemiamo un attimo L'inventario Vediamoci un'occhiata Intorno C'è un cazzo No l'intero Oh ecco qua Ho trovato Non l'ho visto Il primo giro Ho trovato un bel cappuccio Un cappuccio Un cappuccio di merda Normale Almeno mi par Sul cappuccio E gli ho dato lui Subito I guanti I guanti qui Sono stessi del set Che aveva dato Farto L'altra volta E il cappello Quindi ho ben pensato Che Anche se Perdeva un po' Farto Perché serve La profissensi In armatura 2 Sì Per quei guanti lì Intanto glielo do Poi un giorno Gli do la profissensi Però lasciamo tutto il set Alla stessa persona Con i guanti lì Li possiamo passare A un mago O a ganfo Sì Vedo che mi fanno perdere Vision A fin fine Non è stata una grande idea Però Per Diciamo Con investimento futuro Bono così Non li ho dato al barbro Perché al barbro Gli ho dato i guanti Per far danno Che È buono È buono lì È buono qui Buono Non so bene Quanto manchi Ma pensavo Indirittura di arrivo Quindi io direi Che Cosa che ho fatto Mi sono lanciato Sì qua cercavo Di raccogliere i funghetti Come un disabile Aspetta Un socorro Allora Qui praticamente Risalgo E cerco di andare Al posto Al santuario Dove dobbiamo Mettere giù Le quattro gemme Taglio velocemente Anzi prima Arcogliamo la piantina Lì che È Un sacco importante Esco dall'acqua E mi dirigo Al santuario Penso di aver tagliato Qua Mi perdo Prima di dirigire Al santuario Perché sono disabile Ed eccoci arrivati Al santuario Penso che Vedremo Quello che succede Nella prossima puntata Una volta che avremo Messo le quattro gemme Qui sopra Quindi ragazzi Mi dispiace per il Disagio Dell'audio messo così Sarà solo per un paio di video Per ora vi saluto E vi lascio Alla prossima puntata Alla prossima puntata Alla prossima puntata Alla prossima puntata Grazie a tutti.